Buon pomeriggio dallo stadio Ferrande di Piedimonte Matese e benvenuti a una nuova trasmissione di Caserta Sera Stadio l'appuntamento del dopo partita con le interviste della gara di oggi fra Piedimonte, Treppini e Gambatesa finita con il risultato di 3 a 1 per i Matesini con due gol di Di Matteo e uno di Ricci ora la sigla, poi subito dopo ci ritroveremo per il commento tecnico di Emilio Bianchi e poi a seguire le interviste Rieccoci dallo stadio Ferrande di Piedimonte Matese, prego la regia di mandare in onda allo stacchetto il consueto commento tecnico di Emilio Bianchi sulla gara di oggi Allora quinta vittoria per il Piedimonte, un po' sofferto come al solito nei primi minuti e poi abbiamo visto una squadra che in qualche modo ha tirato fuori le potenzialità Beh diciamo che ultimamente chi sta sollevando le sorti della squadra è Di Matteo che non solo è un leader incontrastato di questa squadra insieme a Napoletano ma riesce anche a fare gol ultimamente ha fatto 4 gol in Coppa Italia, oggi ha fatto un'altra doppietta è un giocatore sicuramente di categoria superiore e Piedimonte non può fare a meno di questo giocatore oggi ha sbloccato il risultato e poi ha chiuso la partita con due spettacolari gol io credo che con la forma che ha questa squadra in questo momento con un giocatore così che sta giocando ad alti livelli come pure Napoletano penso che Piedimonte possa dire la sua soprattutto domenica prossima Domenica prossima Macchia con l'altra capolista Dobbiamo vedere se vince prima Macchia, se è ancora capolista questa sera speriamo di no almeno per quanto riguarda Piedimonte è una partita sicuramente non decisiva per le sorti del campionato ci mancherebbe però Piedimonte con la vittoria di oggi e magari con un risultato positivo domenica prossima sicuramente si guadagnerà la leadership di questo campionato di eccellenza e credo che potrà dire la sua sicuramente fino alla fine del campionato Bene, grazie Emidio, andiamo immediatamente negli spogliotori del Piedimonte dove c'è per noi Valentina Monte con i protagonisti della gara di oggi A te la linea Valentina Bene, grazie Lorenzo, siamo con mister Cagnale Mister, allora un primo tempo in cui il Treppini deve carburare una prima fase di studio però il gol è arrivato con Di Matteo Sì, anche se poi carburare sì nel gioco abbiamo 90 minuti per fare la nostra la partita però abbiamo iniziato a giocare sin da subito poi abbiamo forse pensato più alla fase di pressing quando loro ripartivano dal basso quindi diciamo abbiamo speso un po' in più rispetto al solito però anche nel primo tempo ci sono state tante occasioni poi abbiamo fatto gol, abbiamo sferato il secondo anche nel primo tempo nel secondo tempo abbiamo fatto l'errore solo di abbassarci troppo concedendo campo e palla all'avversario e forse abbiamo pagato lo sforzo del primo tempo dove siamo stati molto alti sempre nel pressare l'avversario Nel secondo tempo le occasioni le ha avute la squadra un palo sfortunato di Napoletano però ha chiuso la partita con un buon risultato Sì, diciamo che ci ha fatto bene il gol subito per i motivi che dicevo poco fa però penso sul risultato ci sia poco da dire perché abbiamo meritato ampiamente la vittoria magari se fosse entrato il palo di Napoletano staremmo parlando di un'altra partita però al di là di questo siamo stati bravi a reagire forse è servito appunto il gol subito per trovare questa forza di reagire questo è un ottimo segnale Settimana prossima trasferta col Macchia? Sì, inizia a farsi interessante dobbiamo continuare su questa strada a me piace molto il lavoro settimanale, l'impegno dei ragazzi quindi noi arriveremo sicuramente pronti a questa partita e poi ce la giocheremo a viso aperto Grazie mister Valentina Monte per casertasera.it A te Lorenzo Bene, dallo spogliatoio del Piedimondo a quello del Gambatesa dove c'è per noi Maria Cavicchia A te la linea Direttamente dal campo con il mister del Gambatesa mister Barometro Mister, dopo Macchia e Disernia oggi il Treppini chi l'ha impressionata di più? Sicuramente come qualità di gioco il Treppini ha giocato una buonissima gara, giocano palla da dietro hanno tantissima qualità davanti, non li scopro io però oggi forse noi meritavamo qualcosina in più abbiamo giocato alla pari contro una squadra che secondo me insieme al vasto Girardi dirà la sua fine alla fine del campionato Facciamo un po' il punto della situazione Sesta giornata, un primo tempo abbastanza equilibrato poi i gol di Matteo e Ricci Sì, hanno spezzato l'equilibrio ma noi sapevamo che in qualsiasi momento la qualità del Treppini poteva venire fuori dalle giocate dei singoli ce l'hanno, hanno dei grossissimi giocatori davanti Di Matteo ha fatto due gol bellissimi e niente però ti ripeto, noi ce la siamo giocati alla pari forse nel momento migliore nostro hanno trovato il secondo gol però comunque è un risultato negativo quando riguarda i tre punti ma positivo per la prestazione Mister, un'ultima considerazione riguardo al vostro prossimo impegno? Noi giochiamo in casa col Benafro una partita pure quella importante contro una squadra che ha un grandissimo blasone in Molise una buonissima squadra però in casa nostra noi ci stiamo facendo rispettare sicuramente venderemo cara la pelle Ringraziamo il Mister per la sua disponibilità dal campo è tutto a te Lorenzo E ora la parola ai tifosi come di consueto vediamo cosa ci hanno detto cosa ci diranno sulla gara di oggi Grazie Lorenzo direttamente dagli spalti allora si è sofferto dentro e fuori il campo la partita poteva essere chiusa molto prima? Sicuramente purtroppo queste partite se non si chiudono subito capita che quello che è successo in campo praticamente che se non le chiudi subito le partite abbiamo sofferto diciamo sugli spalti eppure diciamo in campo ecco Quindi potevano chiuderla direttamente al primo tempo? Sicuramente sì sì sicuramente con il palo di Napolitano a porta libera praticamente se fosse andata dentro saremmo stati tutti tranquilli e beati Grazie mille Grazie a te Lorenzo Bene la nostra trasmissione termina qui grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione della trasmissione alla regia e naturalmente a tutti voi che ci avete seguiti Alla prossima sigla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti